Oggi faremo un bellissimo percorso insieme, andremo a scoprire il mondo della ceramica, speriamo che sia interessante. Partiremo dai coloni di questo vasetto per andare a realizzare bicchiere. Mi sono ispirata alla Sicilia, e i suoi colori. Per me questo bicchiere è ricco di significato. Avete fatto un bellissimo lavoro.